e c'ho il centralino che non va bene, c******a ma il tecnico che c******a lo comunichi a me, eh? Non vi è mai capitato? Mi dicono, ho buccato la gomma, buttati dal camion, che c******a ti ha buccato la gomma? Oh no, ne avete mai visti questi con tre telefoni? Cioè, è questo, quell'altro, su, è giù? Non si può fare imprenditori così, eh? Così ci chiamiamo prenditori e fortunati se solo di problemi.